Allora, lui è Baby Yoda, è appena arrivato, è la cosa più bella che io abbia mai visto nella mia vita. Tralasciando le urla di gioia e di piacere che ho fatto appena l'ho visto, perché l'ho scartato. Allora, lui è quello diciamo proprio ufficiale di The Mandalorian, quindi è originale. Dovrebbe avere 25 opzioni di movimento e suoni. Vediamo. Ovviamente fa quello che gli pare. Baby Yoda, ci sei? No, è troppo bello, sto morendo. Lo amo. Usa la forza anche. Stupendo, stupendo. E giustamente, se lo mettiamo giù, lui si mette anche a dormire. Vediamo. Ecco. Russa pure. È bellissimo. È stupendo. Bel braccio, questo qui lo possiamo muovere noi. Il resto fa da solo. Eccola qua, la meraviglia. Ciao.